Giunto al termine il processo del clan camorristico Esposito Marsicano Calone, attivo nel quartiere di Pianura nella zona occidentale di Napoli, si è concluso con condanne pesanti per oltre 160 anni di carcere. La sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale di Napoli dopo un procedimento giudiziario celebrato con il rito abbreviato. Tra gli imputati anche Giuseppe Bellamacina, Antonio e Salvatore Calore, Antonio Frongillo assolti da alcuni capi d'accusa. Carlo Esposito è stato condannato a 15 anni di carcere rispetto ai 22 anni richiesti dalla procura. Antonio e Salvatore Calone sono stati condannati rispettivamente a 14 e 8 anni. Ciro Marsicano è stato condannato a 16 anni di carcere. Sette imputati inoltre dovranno pagare molte per un totale di oltre 43 mila euro.